Sventato un furto di ferro in un'azienda che commercia materiale edile, il furto che si stava consumando nottetempo è stato scoperto dagli uomini delle volanti che durante un servizio di controllo del territorio hanno sentito dei forti rumori provenire da via Rochester. Un furgone era posteggiato all'ingresso dell'azienda e due uomini erano intenti a rubare le barre di ferro. I due soggetti alla vista dell'auto della polizia si sono dati precipitosamente alla fuga nella campagna limitrofa. Uno di essi a causa del buio della notte ha fatto perdere subito le sue tracce. L'altro ladro invece è stato inseguito da uno degli agenti che lo ha riconosciuto subito in quanto noto alle forze dell'ordine perché gravato da numerosi precedenti perriati contro il patrimonio. Il fuggiasco unisseno di 34 anni è stato raggiunto dai poliziotti nell'abitazione della madre che per cercare di allontanare i sospetti dal figlio ha riferito agli agenti che il proprio figlio stava dormendo. Al cospetto dei poliziotti invece è arrivato un uomo con vistose ferite all'addome procurate se probabilmente nell'atto di scavalcare la recinzione col filo spinato. Portato in questura per gli adempimenti di rito l'uomo è stato sottoposto a fotosegnalazione da parte della polizia scientifica ed è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato. L'autocarro con tutto il materiale ferroso rubato è stato sottoposto a sequestro penale. All'interno dell'abitacolo del mezzo gli agenti hanno trovato conferma dei loro sospetti. Infatti hanno trovato i documenti riconducibili al pregiudicato riconosciuto e datosi alla fuga.